Un uomo alla guida di uno scooter sulla Cinquantina è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 16 di Pineto nella mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, quelle dei testimoni, a causare lo scontro un tamponamento dovuto all'improvvisa frenata di una vettura che viaggiava sulla stessa carreggiata dello scooter. La frenata è stata causata dall'attraversamento, forse improvviso, di pedoni. La prima vettura ha frenato bruscamente, alle sue spalle un'altra vettura ha tentato di deviare la propria direzione per evitare il tamponamento e infine lo scooter che invece non è riuscito ad evitare la collisione. Sul posto ad arrivare per primi gli uomini della municipale che hanno provveduto a deviare il traffico e limitare la zona per i rilevamenti del caso. L'uomo, rimasto a terra immobile, è stato poi soccorso dai medici del 118 che hanno proceduto a immobilizzarlo e portarlo in ospedale per constatarne le condizioni fisiche. Il traffico è stato ripristinato senza troppi disagi in brevissimo tempo. Nel frattempo si cerca di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.